Comandante, che cosa racconta questo calendario? Insomma, è sempre un oggetto anche da, per molti, anche da collezione, ma sicuramente lancia un suo messaggio. Sì, siamo giunti all'89esima edizione. Il calendario ha avuto inizio nel 1928, ha avuto una breve sospensione nel periodo post bellico e quest'anno, oltre a essere ormai diventato un oggetto di culto presente nelle abitazioni e negli uffici pubblici di tanti italiani e quindi un carabiniere a casa per tutti. Ed è il terzo anno, diciamo, che abbiamo questa avventura, è anche di per sé un oggetto artistico perché i racconti sono di Carlo Lucarelli, mentre le tavole che si innestano nei racconti di Lucarelli sono del maestro Chia. Il filo conduttore del calendario di quest'anno è il bicentenario del regolamento generale. L'arma dei Carabinieri, come è noto, nasce nel 13 luglio 1814, ma il primo regolamento generale è del 1822. Chiaramente il regolamento negli anni è stato aggiornato, rivisto, adattato al cambiare dei tempi, ma i valori che erano presenti 200 anni fa sono i medesimi che animano i carabinieri oggi. A proposito di un cambio dei tempi, vediamo sempre di più le donne, no? Indossare la vostra divisa, tra l'altro da poco il vostro radiomobile è proprio comandato da una donna. Ecco, com'è cambiata nel tempo, secondo lei? In questo senso anche la percezione poi del carabiniere, anche se donna? Sicuramente in un primo momento, come tutti i cambiamenti, è stato un po', come definirlo, strano, no? Però, chiaramente la componente femminile oggi riveste una quota importante nell'arma e sempre più nel tempo chiaramente crescerà. È sicuramente stato per l'istituzione un arricchimento sotto tutti i punti di vista e ci consente di assolvere ancora al meglio i nostri compiti istituzionali e la nostra vicinanza al cittadino. A breve Arezzo vivrà questo momento, speriamo, il più scintillante possibile, ma dal vostro punto di vista saranno giorni di controlli, di lavoro, di... Insomma, il periodo natalizio, per chi lo vive da utente, è sicuramente un periodo felice e sereno. Per voi che dovete magari controllare, anche in epoca, purtroppo ancora Covid, insomma, saranno giornate di super lavoro. Sì, diciamo che avremmo fatto volentieri almeno dell'epoca Covid, ma a parte quello, chiaramente questo è una... mi passi la battuta, ma... Sì, è chiaro, la città come tutte si appresta ad affrontare le festività natalizie, il che porterà tanta gioia, tanta felicità, perché sono feste particolari, il Natale è la festa della famiglia, ma chiaramente porterà anche qualche lavoro in più. Ma è un lavoro che noi facciamo ben volentieri, perché è chiaro che l'Arma è da sempre impegnata nella sua vicinanza al cittadino. Il calendario e anche tutte le altre opere editoriali che abbiamo presentato oggi raccontano proprio questo. e quindi l'impegno sarà da parte nostra massimo per garantire a tutti gli aretini di godere di queste festività e di questi momenti al meglio possibile.